se vi dico che avete bisogno di spazio mi credete avrete capito parliamo di HTC Vive e cominciamo dalla scatola questa è la scatola che vi arriva se comprate la HTC Vive grande no lo spazio lo spazio è indispensabile per poter sfruttare la HTC Vive al 100% perché perché giocare in stand alone non so se si dice così impostazioni fissa è bello con la simulazione ma se non ci soffermiamo solo alla simulazione il room scale è quello che offre veramente di più con la realtà virtuale ed è il di più che mi ha spinto a comprare la HTC Vive anche se gli altri stanno iniziando a farlo allora la HTC Vive quando apriamo la scatola cosa troviamo? troviamo ovviamente il casco il casco con un cavo di circa 5 metri che nello specifico ve lo faccio vedere non so se si tre cavi in cui c'è il cavo di alimentazione il cavo USB e il cavo HDMI da collegare al PC il tutto si collega a un box che si ricollega poi al PC ovviamente e quindi il casco è collegato in modo hardware al PC vi sono forniti insieme al casco i controller che visti così vabbè ma che sono questi controller invece vi assicuro che sono molto ergonomici si ha subito una sensazione di familiarità con questi controller sono molto hanno un peso giusto non so se mi riesco a spiegare con la cinghiettina a modi PlayStation Move che sono importantissimi da indossare perché non è come ho detto PlayStation Move? si ce l'hanno anche o i controller della Wii se non sbaglio si sono importantissimi perché a differenza delle altre console questo qui avete un casco indossato e quindi non vedete quello che succede interno voi siete realmente fiondati in un altro mondo e quindi questa è una sicurezza che vi consiglio assolutamente di mettere la forma è abbastanza futuristica di questi controller ci sono 2, 3, 4, 5 pulsanti più il grilletto che utilizzerete moltissimo e una specie di D-pad sensoriale che potete sia premere che giocarci per fare alcune cose che scoprirete se comprate un HTC Vive sono forniti insieme ai due controller il casco e le cuffiette perché si possono collegarle qui oppure una cuffia esterna per avere una qualità di suono migliore due base station che sono lì che non so se riesce a vedere magari mettere un'immagine nel video e ce ne sono due che servono a identificare il posizionamento del casco rispetto all'area di gioco e quindi non so come sono collegati tra di loro c'è una specie di motore dentro che quando si collega si sente un rumorino io onestamente quando finisco di utilizzare l'HTC Vive li stacco perché sono collegati ovviamente alla corrente elettrica la distanza massima al quale devono essere collegati è di 5 metri per un'altezza massima di 2,20 metri con un'inclinazione di 15 gradi rispetto alla parete perché hanno un campo di visione di 120 gradi mi sembra tecnicamente dovrebbe essere così l'installazione per me personalmente l'avevo già detto in un video precedente mi ha preso circa 10 minuti perché? perché ho preparato il mio ambiente spazio di gioco prima che l'HTC Vive arrivasse avevo già individuato i punti fissi dove appunto sistemare queste basi le basi hanno comunque il passo di vite classico delle macchine fotografico delle videocamere quindi possono essere installate anche non in modo permanente su dei treppiedi e si possono muovere tranquillamente quindi hanno pensato a tutto quindi c'è sia sotto la base, vi farò vedere comunque sulle immagini sia dietro per poterli fissare al muro e in più vi danno anche gli attacchi per poterli fissare al muro questo per quanto riguarda le basi mi sembra che il giro l'abbiamo fatto tornerei sul casco che è la parte più interessante in cui intanto dicono che pesa però 560 grammi alla fine non si sentono perché hanno pensato veramente a tutto intanto le cinghie per la sistemazione sulla testa sono regalabili da scratch che praticamente si adattano a qualsiasi tipo di cranio vi sono delle regolazioni aspettate che mi organizzo delle regolazioni per poter muovere il casco non so se riesco a farvi vedere sì così praticamente per poter allontanare o ravvicinare il casco in base alle proprie esigenze e quindi dà la possibilità di poterlo indossare anche chi ha degli occhiali una cosa molto, ecco il danno una cosa molto importante è questa rotellina qui che dà la possibilità di regolare quello che ho ampiamente consigliato nel video contro la motion sickness che vi invito ad andare a vedere se non l'avete visto la distanza interpupillare il che aumenta la comodità di utilizzo del casco e riduce le possibilità di motion sickness e soprattutto aumenta il dettaglio che c'è cioè si vede meno sfocato perché la distanza interpupillare è molto molto importante il casco è fornito anche da una telecamera frontale che dà possibilità di vedere l'ambiente esterno mentre si ha il casco perché se non l'abbiamo immaginato ogni volta togliere e mettere, togliere e mettere diventa un casino è molto comodo io onestamente dopo anche mezz'ora, tre quarti d'ora di gioco non lo sento assolutamente l'unica problematica che ho riscontrato nell'utilizzo del casco è quando fa molto caldo ne avevo discusso quando ho fatto la prova della IA del Ready to Race, il DLC di Assetto Corsa non ho potuto registrare perché si appannava tutto quindi di conseguenza ho dovuto mollare effettivamente riscalda un pochettino c'è tutto un sistema qui dentro tecnologico che fa sì che uno possa prestare un mondo e una realtà diversa quindi è normale che riscaldi tecnologicamente penso che sia il più avanzato e che oggi commercialmente sia quello più interessante non è una pubblicità vi sto soltanto parlando di questo casco e di tutto quello che ho letto, di tutte le informazioni che ho potuto reperire in giro per il web e onestamente tutto quello che dicono su questo casco è assolutamente vero il cavo il cavo è un qualcosa che all'inizio dà un po' fastidio però onestamente come dicevo se come dicevo se avete la postazione vostra, il vostro computer vicino perché deve essere vicino basta metterlo dietro le spalle e via si gioca e poi comunque alla fine si riesce a gestire in modo molto tranquillo si dimentica lo spazio lo spazio come viene configurato? semplicemente il sistema quando attivate il casco di realtà virtuale vi chiede come impostare la stanza volete stare seduti su postazione PIS oppure volete configurarlo in room scale? allora se scegliete room scale semplicemente vi domanda di fare la calibrazione del visore e dei controller vi dice di posarli a terra per calibrare il pavimento e poi da lì vi dà la possibilità con il controller di andare direttamente a fare il contorno della vostra stanza e poi tramite validazione vi dice se lo spazio che avete delimitato è giusto o meno io devo dire che sul mio spazio che è al limite di quello che chiede come requisito minimo il vive ho dovuto un po' imbrogliare, andare un po' fuori limite per potermi fare accettare la configurazione della stanza diciamo che è più complicato configurare lo spazio, l'ambiente di gioco piuttosto che l'hardware perché alla fine l'hardware cosa sono? Sono le due basi station, tre cavi da collegare, la cuffia ed è finita lì, si fare due buchi nel muro se li volete mettere al muro fissi collegare le prese delle basi, è morta lì, cioè non è che c'è chissà che a livello software c'è questa configurazione qua e ho avuto più difficoltà a farmi calibrare il mio spazio di gioco come vi dicevo, piuttosto che a livello hardware il casco è composto da due mini schermi OLED non so se si vedono, sì OLED da, per una visione totale di, una risoluzione totale di 2160x12 il che da, per ogni occhio, aspettate, 1080x12 la frequenza di aggiornamento per ogni occhio è di 90 Hz quindi e in più sono 110 gradi di inclinazione, di angolo di visione totale sul casco c'è da aggiungere che ci sono delle parti che possono essere intercambiate tipo questa mousse che serve praticamente quando lo indassate a che sia bene attaccato e che comunque sia comodo vi accorgerete presto che avrete i marchi dopo l'utilizzo dell'HTC Vibe che poi però è bellissimo ragazzi, è veramente bello come casco come visore anzi, casco visore di realtà virtuale veniamo alla parte importante di questo video i giochi allora ero un po' come dire, ero un po' bloccato a comprare l'HTC Vibe perché ho detto, vabbè, ma lo compro solo per la simulazione e poi la simulazione non è che puoi fare delle enduranze non sai che cosa ti aspettano l'avevo testato avevo solo letto le opinioni e le recensioni e quando sono andato a guardare l'HTC Vibe per comprarlo e vedere i programmi disponibili i giochi disponibili, le esperienze disponibili sono rimasto un po' con lo culo a terra quando ho visto 57 prodotti disponibili ho detto, come 57? è una tecnologia che esce adesso e fanno uscire i prodotti con 57 prodotti? ero, sono rimasto un po' così il tempo che mi arredivi in meno di 3 giorni erano passati a 70 quindi in 3 giorni 20 prodotti già disponibili in più ad oggi sono passati due mesi credo sì, due mesi le ho contate appena adesso sono 1420 quindi Vive insieme a Steam eccetera eccetera sviluppano costantemente questa tecnologia perché ci credono tantissimo quindi sono rincuorato perché prima di comprare 1420 prodotti sicuramente non li comprerò ma, cioè voglio dire è un mercato in espansione totale e quindi sono contentissimo di averlo comprato perché non solo gioco in modo tradizionale e questo mi va benissimo ma ho anche la possibilità di giocare con l'HTC Vive perché per me è un'esperienza veramente bella che bisogna almeno, quantomeno, provare perché, ve lo rivedo sempre è difficile spiegarvi cosa succede quando indossate il casco anche se io dovessi accenderlo e metterlo così di fronte alla telecamera non succederebbe niente perché vedreste sempre in 2D e quindi non cambierebbe niente da quello che, vabbè e anche il gameplay anche quando vi pubblico un gameplay sì vedete intorno quello che vedo ma non carpite non capite carpire la profondità e l'emozione che dà veramente non si può bisogna testarlo io vorrei tornare sulla mia esperienza personale l'HTC Vive io non so se ci sono vecchi gamer come me che hanno iniziato quando erano ragazzini 12-13 anni con i primi Commodore 64 Commodore 16 Amiga 500 Amiga 1000 per poi passare al Siga Master System PS2 PS1 PS3 eccetera eccetera c'è l'emozione di mettere il disco dentro oh la cassetta la cassetta mamma mia la vecchiaia avanza il disco è scoprire il gioco essere lì con gli occhi sgranati e si aspettava questo gioco oppure andare in sala giochi e giocare con il kickoff arcade mettere le 200 lire mamma mia la vecchiaia raga vabbè i tempi cambiano noi avanziamo non mi importa quell'emozione lì che si provava il fatto di dover chiedere le 1000-2000 lire a papà e a mamma per poter andare a giocare in sala giochi e andare lì davanti alla Bourne Arcade è un qualcosa che con i tempi moderni non so se si con la facilità che sia di avere i giochi a casa non so se sia questa stessa emozione che si aveva all'epoca oggi io mi lancio a dire sta cosa non vorrei dire una cacata però ogni volta che metto il casco e vado a scoprire un nuovo un nuovo gioco oppure vado a farmi una gara una simulazione io la risento questa emozione qui cioè quando stacco perché sono stacco quello che è e vado al lavoro cioè durante il lavoro cavolo stasera torno mi metto il casco e gioco cosa che prima no sì è sempre una passione il fatto di guidare di giocare uno si inventa delle gare cerca di mettersi online con gli amici però quella pura emozione del divertimento con quella paura di finire il gioco per non avere più quell'emozione è tornata è tornata e non so se chi ha il casco di HTC Vive e gli altri youtubers e quelli che condividono me queste stesse lo stesso prodotto hanno questa sensazione io vedo che ci sono degli youtuber che sono lì che fanno sempre gameplay eccetera ma non è soltanto la questione di fare un video per essere interessanti o mettersi al centro dell'attenzione è proprio per condividere queste emozioni che comunque questa tecnologia oggi ci sta rinnovando rispetto a quando eravamo bambini sembra stupido quello che dico però è quello che sento realmente ho questa emozione io quando rientro a casa faccio quello che devo fare e poi metto il casco perché ci voglio giocare perché sento quella che figata gioco ecco è questo il sorriso è questo che mi riesce a dare l'HTC Vive il problema che avevo con i giochi le console eccetera è che mi mancava il sorriso oggi l'HTC Vive mi dà il sorriso voglio tornare su un argomento un po' spinoso dell'HTC Vive eh sì perché c'è sempre un un argomento che insomma non fa tanto che c'è il neo il bemolle della situazione il bemolle della situazione è la motion sickness o la sickness motion non mi ricordo mai vabbè motion sickness il mal d'auto la kinetosi ormai lo sappiamo io ho scoperto che più giochi più lo utilizzi e meno ne hai perché? perché il cervello si abitua però mi incazzo perché io sono un puro giocatore sono uno che si diverte uno che guida e poi mi arriva un amico mio ve l'ho fatto vedere Alex che gli ho fatto anche un'intervista in francese sottotitolata che vi invito ad andare a vedere lui prima volta mette il casco gli faccio provare di tutto nessun tipo di problema Marco che è sempre l'altro mio collega amico francese lui aveva un po' più di difficoltà però insomma la motion sickness più si utilizza il casco più si riesce a prendere coscienza che siamo in un mondo diverso e che bisogna risincronizzare il cervello con quello che sta succedendo e più si riduce l'effetto ovviamente bisogna sempre stare in un ambiente aerato non bisogna aver mangiato pesanti io tipo ho finito di mangiare mcdonald's e se mi metto a giocare adesso dalle mie parti sbombico mi sbombico tutto cioè sicuro senza contare il mal di testa e devo stare male dopo quindi non voglio attardarmi su questo discorso però è comunque un argomento che bisogna comunque dire in questa tipologia di video che vi sto facendo conclusioni perché se no si fa notte l'HTC Vive dopo due mesi praticamente di esperienza io rinnovo ancora quello che ho detto fino adesso è una grande strafigata e ve lo consiglio assolutamente va testato perché se no non capite di quello che parlo alla fine a parte la motion sickness sono la configurazione del pc hardware che serve che comunque deve essere abbastanza consistente l'installazione ci mettete 10 minuti ci vuole un po' di spazio e soprattutto ci vuole a pila perché comunque costa all'incirca 900 euro più le spese di spedizione almeno che non avete dei codici sconto sui vari siti che offrono oppure lo comprate in promozione correte a testarlo in un qualche centro commerciale io vi abbraccio vi bacio tutti e ci vediamo al prossimo video grazie mille per avermi visto non esistate a lasciare un commento qui sotto a lasciarmi un like se volete e fatelo perché è gratuito iscrivetevi ciao da Fabrice alla prossima sarà una mega cagata sto video ma non in botta lo taglierò da tutte le parti grazie a tutti Grazie.